bentornati ragazzi e ragazze l'azione senza tempo marco e diego riasso un tazzo brutto brutto della quarta giornata della serie a a cavallo con la quinta la quinta perché ormai c'è già ogni tre giorni se capisce più niente ricordate delle formazioni al fantacarcio ragazzi importantissimo ancora più importante secondo me è l'iscrizione al canale e mi piace a sto video se vi è piaciuto ma mi mette pure all'inizio se niente la campanella e condividete il video nel caso boh fate queste cose mi siamo con la razza subito già abbiamo parlato che ormai abbiamo già detto tutto sì insomma dobbiamo sintonizzarci dobbiamo sintonizzare i movimenti fase difensiva soprattutto però anche la fase offensiva diciamo che manca un po la ciccia tiriamo poco dobbiamo dobbiamo fare di più c'è tempo lo sappiamo dobbiamo aspettare insomma sono i discorsi vediamo un po e abbiamo capito che lei ha bisogno di un sostituto definitivamente non insomma uno che lo rimpiazzi però uno che gli dia respiro si sembra abbiamo trovato abbiamo ritrovato cataldi per l'ennesima volta non lo so gran gol grandissimo giochiamo tantissimo bene magari sicuramente va la costruzione del gioco in avanti ma dietro già secondo me se vuoi mettere cataldi mi mette uno a fianco che corre meno sì perché esatto lui è molto più bravo a situazioni come quella di dell'altro giorno in cui dovevamo attaccare ma se dobbiamo invece soffrire è uno che non interrompe non è bravissima interrompere il gioco avversario comunque vediamo si parla per la prossima partita in cui andremo a affrontare il torino e che vedremo forse appunto titolare cataldi e anche zaccagni al posto di vedo un torino che insomma è una squadra è una squadra buona ragazzi iuri ci sembra aver trovato la quadra e solito in difesa con gente in attacco è riuscito a battere il sassuolo 1 a 0 a fine partita tanta quattresimo grazie a piazza piazza tanto bistrattato invece entra e segna vincere contro il torino ragazzi sarebbe fondamentale perché darebbe darebbe punti e fiducia in vista di una partitella della partitella di domenica prossima mezza il derby con le mani in alto e invece una squadra che ormai si sa ragazzi è forte anche quest'anno anche se sono partiti due grandi giocatori come akimi e lukako e proprio l'inter raga 6 a 1 c'è sì non far impiaggere conte in zaki tanta roba e segnano valangre gol appunto anche senza i due mesi massimi dell'anno scorso però l'autore zeko non sarà meraviglia e correa che ti è fatto male ok però da quello che ha fatto vedere almeno dalla prima giornata potrebbe fare qualcosa in più quest'anno magari esatto l'altro grande partente era akimi però d'un freestyle la prima partita titolare perché in zaki non ha mascherato a titolare non so bene il motivo fa vedere insomma che ce n'ha ce n'ha ce n'ha tanta roba anche sull'altra fascia devo dire di marco di marco forte un motorino reganzi ferma mai è vero e stasera l'inter già rigiocherà e forse avrà la prima vera sfida sicuramente se la stagione del campionato una squadra diventa più forte quelle che affronta la prima terza c'è la fiorentina che anche se vlavic si è svegliato completamente ci ha pensato e poi ci ha pensato saponare insomma nell'ultimo campionato un giocatore che non non si capisce cosa abbia fatto per non essere mai stato al centro delle attenzioni forse un po di sconti molto di sconti fortissimo con le assist bellissimi fai gol rovesciata di tacco e noi vabbè infatti e avvicina vinte tutte tranne la sconfitta contro la roma e la mente tutte 2 a 1 poi dimostrando quindi di essere cavarbia una squadra cavarbia e con alternativa appunto la buonara al posto di martinez quarta anche al centrocampo parecchi e in difesa che possono rimpiazzare gli eventuali quindi a tenere di qualità vediamo un po che succederà ma passiamo invece io e milan che doveva essere la partita ragionata anzi lo è stato in realtà perché comunque la juve doveva vince per forza perché doveva tirasse un po fuori da qua zona retrocessione in cui adesso prima stava a un punto adesso è salita a due incredibilmente col pareggio 1 a 1 in proprio in casa casa nuova tra l'altro dicevamo tu dicevi no per me vinceva io e diceva no per me vince il milan nessuno di un bel tempo il pareggio se eravamo gioca del picchetto sicuramente l'avevamo perso la juventus dopo il quarto minuto mi ricordo adesso subito in vantaggio con morata grazie a un contropiede ma questo grande assist furbo assist di bala già centrocampo stava da solo morata ovviamente arriva davanti alla porta scavetto sotto e gran gol e invece la juve però appunto spreca soprattutto fase di costruzione non riesce a mantenere il vantaggio nonostante tante assenze per milan e anche giro ma c'è un giocatore che mi rimpiazza molto bene secondo me piace un botte ragazzi anterebic discontinuo sì però però in ciappos lì che ha fatto un gol in assist qua ha fatto il gol del pareggio regalo secondo me fatelo giocare posto di brevi infatti tu ce l'hai affanta calcia dai tento e niente quindi appunto la sfanga per il milan e rebic ora entrambe le squadre andranno a ad affrontare si scambieranno due squadre che noi da subito abbiamo detto probabili retros prime retrocesse cioè spese e venezia che si sono affrontate appunto a loro volta e col venezia che vince 2-1 all'ultimo grazie a una bomba di burra bianco del burra bianco quindi tiaco motta che ancora non la secca vediamo insomma se sto primo sa prima vittoria stagionale in campionato della juve arrivi appunto contro insomma per questo scontro salvezza possiamo tempo adesso si adesso è uno sconto salvezza veramente chissà raga tra le bianconiere sentito tante voci in realtà su youtube è che dicono che fra un po a lei che si tirerà fuori perché non deve arrivare perché il gioco non è più è un gioco vecchio a lei che tutte le s però non so bisogna di un po di tempo comunque con parecchi giovani anche tra virgolette che non proprio giovanissime insomma è cambiato nel più dell'allegri di prima tra l'altro dell'allegri vediamo almeno invece continua insomma la marcia senza sconfitta in campionato passa con lo stato di sfortuni contro una dei papabili lo scudetto un pareggio quindi continuano continuano a macinare i milanisti poi invece chi non ma chi non macina per questo assaggio incredibile al stop il real madrid ha perso infatti contro il besiktas esatto il verona batte la roma 3 a 2 quindi dimostra questa roma che non è proprio sta corazzata infallibile già in realtà col sassuola partita prima era un po riservato rischiata stasola capito come giocava e tutto il resto invece invece il verona è reduce anche loro anche lei questo parallelismo tra roma e lazio continua perché noi avevamo con mazzarri appena arrivato loro contro mazzarri loro contro tudor appunto appena si sorpo di francesco vorra di francesco quante sconfitte tipo 508 sconfitte 19 risultati negativi consecutivi cioè non vittorio un vittorio mamma mia male quindi tudor riesce a bloccare gli attacchi della roma sotto la pioggia battente non serve a niente il gran gol delle grine per le grine sarà molto ragazzi sì diciamo la condanna a questa roma viene tramite passa tra i piedi dell'ex roma capri a caprari che è sostituito molto bene a quanto pare zaccagni e del cuore biancazzurro faraoni che fangol forse è più bello che quello di pellegrino la palla arrivare in berzella e pamma d'esterno sotto al 7 poi venire da roma rimasti fatti ma che davvero poi in realtà tutto il resto ancora il verona perché il pareggio dell'1 a 1 lo fa barack e il 2 a 2 della roma lo fa il liceo bell'autogol però rica verona io ho visto non ho visto tutta la partita ma giocava è un attacco a roma è riscato nel più di tre gol e adesso vediamo perché giovedì appunto incontrerà la roma tra l'unità l'udinese che resta una squadra ostica molto bene allarata dai gotti quadrata che subisce pochi gol abbiamo sempre detto non mi conosco se è preso silvestri al fanta carci a poco ha fatto un affare più quattro pippi da napoli che continua a dimostrarsi arrivante arrivante perché si manda segnali alle altre big così bene che non si ferma segnalo zano colibali versione assist probabilmente si è comprato al fanta carci sempre quello il fanta carci e insomma la squadra di sottospalletti sembra veramente destinata a insidiare i posti alti della della classifica stanno secondo me c'è la possibilità di mette zizzagna diciamo fra le alte sfere per variare secondo me anche più in alto da roma adesso come adesso parlando si si ma già parlano di un napoli da scudetto ma vediamo quando contraranno squadre magari incontra squadre più più ambiziose però buon buonissimo napoli che affronterà la sandoria sandoria reddice da una grande partita del grande ciccio caputo fai sempre queste cose per favore che c'è un fanta carci doppietta di ciccio caputo e che ha ridimensionato ancora di più questo empoli questo empoli che già dall'inizio si diceva che in realtà l'inizio era molto bene contro noi vince contro la juve però poi le ultime due non le azzecca e quindi vediamo un po che insomma come andrà avanti questo empoli e che poi facciamo anche una pensione d'onore queste diciamo le big la pensione d'onore per e propria va alla salernitana che gioca un'ottima partita contro contro l'atalanta dei gasperini però alla fine poi si arrende alla zampata di zapata mi piace questa cosa un po rosicato è il pareggiotto che è stata benissima perché io non mu so in porta quindi va bene così 1 a 0 sanità una grande grande partita ragazzi hanno il gioco posso dire che forse non hanno i giocatori adatti alla serie a come magari comunque anche l'alti che sono stati da serie b pare che il gioco c'è l'anno si giocano giocano bene giocano col cuore poi ci sono anche dei singoli che non sono male per niente quello che insomma risultato di più è questo che si rita il tunisino che si rita che il nuovo chimi esterno destro che ha dato veramente chilo da torcia a gosens ha giocato molto meglio di cosa si doveva preoccupare di difendere piuttosto di attaccare preso un voto de merda e poi tra l'altro bonazzoli che è subentrato anche non male fa un assist di tacco a un certo punto molto buono per gioie lobby mi pare e l'ex razziale gondola che fanno buonissima partita e si capisce perché è così amato da tifosi salernitani effettivamente l'hanno sempre detto bravo io poi mi aspettavo uno più da centrocampo dei botte invece ovviamente tre quartista secondo la punta molto molto interessante però ormai svincolato da natale quindi va bene così e niente questo era il sulto della quarta giornata di campionato veramente con un accenno con un pizzico di quinta che inizierà oggi alle sei mi pare e niente se vediamo in realtà domani dopo domani giochetti giochiamo si e live come al solito poi per partita e action post partita mi piace condividete erco della forza ragazzi ciao i'll fly with you i'll fly with you Grazie a tutti